Ne stessi. Numero 1, Buongiorno. Numero 2, Matteo Giappolo. Numero 6, Querci. Numero 4, Cantiferi. Numero 5, Matteo Lannan. Numero 6, Picci. Numero 7, Pettini. Numero 8, Paperelli. Numero 9, Zampini. Numero 10, Canta. Numero 11, Picci. A disposizione del signor Nico Scardigli. Numero 12, Martinuzzi. Numero 13, Rosato. Numero 14, Papi. Numero 15, Bastigliani. Numero 16, Destrova. Numero 17, Polignani. E se ne riesce. Numero 1, Martinuzzi. Numero 2, Poligni. Numero 10, Pettini. Numero 4, Chiamone. Numero 5, Poligni. Numero 16, Numero 7, Piatri. Numero 8, Poglina. Numero 9, Massa. Numero 10, Cilentro. Numero 11, Pettini. A disposizione del signorario Eccionale. Numero 12, Pettini. Numero 10, Pettini. E 8, Numero 4, Pettini. Paggaccio. Numero 15, Pettini. Comproviso al massimo posto del 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 Pettini. Cilentro. El Pettini. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti